Che vergogna, che vergogna! Mannaggia, non sei, miei cari ragazzi! È una vergogna assolta! No, non ci posso credere! Bebebebello a tutti ragazzi, dal vostro bomber Jimmy J. Frank 93 Bentornati nuovamente sul canale ragazzi, è un bentornato anche a me Eh, sì, bentornato, benissimo! Allora, oggi è 17 luglio ragazzi, sono ritornato a registrare un video Ma porco can! Eh, sì, siamo mancati un bel po' di tempo Diciamo un mese su YouTube Da quando ho pubblicato l'ultimo video Non so neanche di quale cavolo argomento stavamo parlando Sì, di YouTube e le cose che ne derivano Poi faremo tanti video dove parlerò di alcuni argomenti È successo un cataclismo mondiale La terza guerra mondiale su YouTube D'altronde È alla portata di mano ultimamente Le varie cose, sub for sub, eccetera Ragazzi Eh, no È una vergogna È una vergogna È incredibile, i miei cari ragazzi È una vergogna E punto e basta Perché io, come al solito, ho sempre detto L'ho sempre detto, eh Il predicatore colpisce Benissimo Anche prima, quando mi sono appena alzato Vabbè, ho dormito un po' 5-4 ore Ho pensato Dai, adesso vado a registrare È il mio primo giorno libero Così Ragazzi Lo sto venendo a fare In mutante Quindi Vlog in mutante E poi su un'idea Oppure un vlog Nel bagno Oppure semplicemente Nel cesso, ragazzi Attenzione Non è Non è possibile Ogni volta dico Magari Facciamo tre video al giorno Ci vuole costanza Per fare Un ottimo lavoro E dobbiamo cambiare anche format Il formato Non in mp3 Ma in mp4 E una cosa del genere Purtroppo ho avuto Un bel po' Di cose da fare Poi sempre Abbiamo lavorato Ragazzi Qualche giorno In più Poi ci sono le cose Che vi ho sempre detto E quindi Il mio problemino Collegato E quindi non ho fatto video Sono andato al mare Eccetera Cose personali Familiari Eccetera Poi ho anche giocato Ho nerdato un po' Sui GTA V Abbiamo fatto un mesetto Con gli ingari Di giornalieri Ma questa è una Parapiglia Ma Che stai a dire Scusa Che stai a dire Non ho capito È Lune 10 del giorno Benissimo Magari Dei notte Perché oggi 13-13-10 Benissimo Amici Cari Bongas Come vi ho sempre detto Lasciatemi un like Per il tuo spot Potete anche commentare I video Su Facebook Che ne so Congratiate i video Su Facebook Se vi piacciono I miei video Naturalmente Sub for sub attivo No Sarebbe I com No Ci può stare Come vi ho sempre detto Ragazzi Fermate i 10 secondi A pensare Prima di Scrivere Quello che Volete scrivere Nei commenti Va bene Io Cercherò di Affrontare Sempre nuovi argomenti Magari Mi allontanerò Dal gameplay E inizieremo A fare dei video Stupidi Che dire Andremo in giro Per la città O per la città A fare Di scherzi Ma Esperimenti Social Esperimenti No Sì Social Soltanto Penso Cercherò Di fare Almeno Due video Al giorno Perché Vorrei fare Una scaletta Un mio Programma Su YouTube Spero Di riuscirci E non ci siano Imprevisti Anche L'algato Tipo Voglio fare Un gazzeggio Su GTA Online Break Break Uno Sclero Time Ad esempio Mie cari bombes Il mio ritorno E' ufficiale Per la seconda volta Ma Purtroppo Sì Questa cosa Alla millesima volta Che la diciamo E ci sono sempre cose da fare Poi lavori E poi Voglio uscire un po' Perché In questo periodo Sono un po' Uscito Al mare Al fiume Anche Si può fare Anche Bagno Al fiume Oppure In una In una In una Benissimo Il Jimmy J Fren 93 Vi augura La buonanotte Benissimo Buonanotte A te che sei No ragazzi Lasciamo stare Perché Si mette a piovere C'è il sole Ha piovuto Tutto ieri Domenica In tutta Italia Ha fatto schifo Il tempo Benissimo Icè e Bombers Mi raccomando Scrivete nei commenti Cosa pensate Al video Vabbè Si sa che sono pazzo Quindi Ho sparato un po' Di cose A pene di cane A pelle di cane Benissimo Potete darmi Tutti i suggerimenti Che volete Anzi Potete allangermi Qualsia sfida Challenge Come è successo Un millennio fa Tre anni fa Quando ho smesso Di fare video Vabbè Alla fine Un mese Benissimo Icè e Bombers Se volete Qualche gioco In particolare Me lo potete Suggerire Anzi Farò Te lasco Fassi Mafia 2 Me l'avevano Suggerito Consigliato Alcuni Miei Iscritti Ma poi Largato Da Sembri Numeri Però Io ci riprovo Speriamo Che la da bene Benissimo Vi do un saluto Personale Da parte Dal cuore Di Junji In 93 Ragazzi Ci becchiamo In prossimo video Bella Ciao